Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Toukens e benvenuti in un nuovo video guida di Fortnite. In questo video andiamo a vedere come portare a termine la sfida che ci chiede di parlare ai vari Jones. Come sempre però vi invito subito a lasciare un bel like, un commento con l'hashtag salutami se nei prossimi video guida volete essere salutati. In questo video saluto Super Universal, Angela Meringolo e Giulia Makishvili che me l'hanno chiesto nei precedenti video. Vi ricordo inoltre che tutti i lunedì, martedì e mercoledì dalle 21.30 in poi sono in live sul canale di Ola, il link lo potete trovare qui sotto in descrizione, quindi se volete giocare e divertirmi insieme a me vi aspetto in live. Come ultima cosa se i miei video vi sono utili per avanzare all'interno del pass battaglia e mi volete supportare potete farlo inserendo all'interno dello shopping codice creatore plugins. Se l'acquisto me lo taglierete tra le storie di Instagram io lo farò vedere all'interno dei prossimi video. Quindi amici non ci dilunghiamo ulteriormente ed andiamo a vedere come fare per portare a termine la sfida. Per portare a termine la sfida dobbiamo parlare con 5 Jones. Il primo lo possiamo trovare a Castello Corallo. Per avanzare con la sfida dovete selezionare l'opzione Guglia e fare continua fino a quando il discorso con il personaggio non finirà. Mi raccomando ragazzi questa è una cosa molto importante per la sfida, mentre per il secondo dovremo andare sulla spiaggia di sabbi sudate. Come è stato per il primo dovremo selezionare l'opzione Guglia e continuare il discorso. Per il terzo invece dovremo andare dentro la fabbrica di Pantano Pallinante. Il quarto invece lo troveremo al centro di foresta Pugnante, mentre per il quinto ed ultimo dovremo atterrare al lago d'anguido. Una volta completato il discorso anche con questo Jones porteremo a termine la sfida. Quindi amici come sempre spero che questo video vi sia stato utile, come detto all'inizio lasciate un bel pollicione in su, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video.